Cambiamo settore, andiamo tutti insieme nell'ambito delle telecomunicazioni e lo facciamo con Laura Battini che è Artificial Intelligence Leader di Vodafone Italia. Devo dire che Tobi mi ha sempre risposto bene però, sempre stato educato. Grazie Andrea. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, sono Laura e in Vodafone mi occupo di Artificial Intelligence. Oggi vi racconto il caso di Tobi, spero che almeno qualcuno di voi lo abbia già conosciuto, ma andiamo un po' a conoscere cosa avviene dietro a quel simpatico faccino. Da dove siamo partiti? Anche noi, un po' come hanno detto le persone prima di me, siamo partiti dal cliente e quindi dai bisogni che ha il nostro cliente nell'interfacciarsi con il Customer Care. La prima cosa è la possibilità di avere un accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre più indispensabile perché ci hanno abituato così un po' tutte le aziende. Il secondo punto importante è la possibilità di avere una conversazione, non dovere quindi più seguire degli step molto strutturati. Questo avveniva in passato, almeno per quanto ci riguarda, con le aree di supporto dei siti web che avevano quei famosi step per cui andavi a selezionare e si aprivano delle alberature ulteriori. Ecco, quello che ci chiede il nostro cliente è di avere un'interazione naturale e quindi tramite conversazione. Terza area è l'area dei rich media e quindi poter condividere foto, video. Faccio un caso che ci riguarda ma sicuramente nelle vostre aziende ne avrete altri. Il cliente prova ad installare la Vodafone Station ma qualcosa non funziona e vuole mostrarci come ha posizionato i propri cavi. Quanto è più semplice mandare una foto e ricevere in risposta una diagnostica, un'analisi di che cosa effettivamente deve andare a cambiare. Infine, importantissimo, esperienza omnicanale. Il cliente ha bisogno sempre di più di avere un'esperienza consistente su tutti i canali e quindi può passare dal web al mobile, all'app ma anche alla chiamata e vuole avere una risposta che sia coerente e vedere che Vodafone nel nostro caso si ricorda quello che già il cliente ci ha comunicato. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato Tobi. Tobi è il nostro assistente digitale che si basa su tanta parte tecnologica ma anche tanto pensiero e procedura umana. Nella parte tecnologica abbiamo una parte di speech to text e text to speech perché come tutti sapete i motori cognitivi hanno alla base il testo e quindi dobbiamo andare a tradurre tutto su base testuale. Quello che ci dettano i clienti piuttosto che quello che ci scrivono deve essere trasformato in testo. Natural language process è il secondo elemento quindi andiamo a comprendere che cosa ci ha chiesto il cliente e lo facciamo grazie a un training quotidiano di intenti ed entità e poi un terzo elemento che è il machine learning. Noi abbiamo un motore supervisionato perché vogliamo fare sì che apprenda ma apprenda con la nostra supervisione. Infine il box blu è uno dei box più importanti perché va benissimo comprendere ma poi dobbiamo risolvere e come risolviamo? Risolviamo con le procedure. Per fare questo abbiamo persone che si occupano di business e vanno a strutturale qual è il processo che il bot deve seguire al fine di risolvere il problema del nostro cliente. E Tobi segue i nostri clienti in tutte le fasi del processo di vita del cliente dall'acquisition all'onboarding quindi i veri propri primi giorni in cui il cliente ha bisogno di scaricare l'app, capire quale promozione attiva, quali sono i contatori, arrivando al momento dell'app sell quindi un momento di vita più maturo dove è Tobi a proporre offerte addizionali o possibilità di cambio offerta in anche situazioni di issue potenziali, issue tecniche. Tobi riesce a fare una diagnostica della rete fissa, riesce ad aprire un trouble ticket e poi a dare update al cliente su quel ticket e infine anche nel momento della retention. Qualora un nostro cliente ci dovesse dire che vuole lasciare Tobi, ecco in quel momento Tobi riconosce questo intento e passa l'interazione a un nostro collega del customer care perché ovviamente un po' come hanno già detto le persone prima di me, i chatbot sono importantissimi e anche bravi a risolvere tematiche semplici ma per le tematiche complesse o a valore aggiunto passiamo l'intera interazione al collega. E quindi vi racconto un po' la storia per dirvi come siamo arrivati a Tobi. Siamo partiti nel 2016. Nel 2016 a luglio abbiamo detto no, non possiamo più avere sull'app il solito menu a tendina con le alberature del supporto in cui se il cliente poi si perde deve ricominciare tutto da capo e abbiamo introdotto quella che chiamavamo ai tempi la serve aiuto che aveva un box con anche la possibilità di parlare, quindi uno speech to text, in cui il cliente poteva dettare la domanda e in modo molto semplice con un motore semantico quello che facevamo era prioritizzare le FIQ più pertinenti. Quindi andavamo a semplificare un pochino la vita del cliente. Questo ci ha aiutato enormemente successivamente perché abbiamo iniziato a raccogliere dati su quali erano le richieste del cliente e soprattutto come le formulava. Secondo step, luglio 17, quindi passa un anno, continuiamo a usare un motore semantico ma iniziamo a dirci forse dobbiamo lavorare a livello conversazionale. Quindi comprendiamo sempre in modo semantico quindi la parola ma iniziano a nascere i fumetti. Qui abbiamo introdotto anche Tobi quindi è nel 2017 che nasce il nostro assistente digitale e iniziamo quindi a brandizzarlo. È però nell'ottobre 2018 che facciamo il vero step change. Andiamo infatti a fare una B-test su due delle più grandi tecnologie di motori cognitivi e lanciamo Tobi sul web. Perché il web? Beh il web non è il nostro canale più popolato diciamo, è un po' così per tutti, ma proprio per questo era un ottimo canale su cui iniziare a fare un test. Quindi abbiamo introdotto un widget in basso a destra in ogni pagina del nostro sito web su cui i nostri clienti potevano fare le loro domande. A quel punto è partita l'estensione verso tutti i canali. Abbiamo introdotto il sito mobile nel febbraio 2018 e poi Facebook nell'aprile 2018. Infine abbiamo proseguito sempre col motore cognitivo. L'app nel luglio 2018, questo è stato un vero e proprio cambiamento perché in app avevamo il conversazionale semantico che avevo fatto vedere prima. Perché è un cambiamento? Perché l'app è il nostro canale principale. È un canale che viene utilizzato dal 90% dei nostri clienti che hanno uno smartphone e quindi era lì che avevamo il fulcro delle nostre interazioni. Abbiamo aperto poi altro step, se vogliamo dire sfidante, ma da cui abbiamo imparato anche tanto, il canale vocale. Quindi tutti i clienti che chiamano il 190 con un numero di rete fissa, questo era settembre del 2018, avevano la possibilità di parlare con Tobi. Quindi di interagire in modo vocale. Un'interazione completamente diversa da quelle che abbiamo visto prima. Dopodiché siamo stati partner di Amazon con il lancio di Alexa ad ottobre di un anno fa e quindi abbiamo una skill di Tobi che risponde alle domande del cliente su Alexa. Infine abbiamo lanciato a dicembre Whatsapp. Whatsapp ha aperto la possibilità per le aziende di avere dei bot e abbiamo quindi ideato una numerazione che è il 3499 190 190 con cui i nostri clienti possono interagire esattamente proprio come con i loro amici con Tobi. Vado veloce perché Andrea mi sta riprendendo. Quindi abbiamo aperto poi l'Ivr mobile per tutti i clienti con un numero mobile e infine ultimissimo step fatto a luglio di quest'anno, RCS che è il sistema di messaging di Android che permette di mandare sms arricchiti come vedete qui. Questi quindi gli step dove siamo arrivati con questi step? Con grande soddisfazione il grafico rappresenta i volumi che abbiamo su Tobi siamo arrivati ad avere 6 milioni di conversazioni al mese con i nostri clienti. Tutto ciò è stato fatto anche imparando imparando tanto e le lezioni che abbiamo appreso durante questi oramai tre anni le ho un po' racchiuse qui. La prima è costruiamo dialoghi e procedure che siano omnicanale. Noi siamo partiti con singoli canali e quindi la cosa più semplice all'inizio è stato pensare a quel canale. Ci siamo ritrovati a dover ricostruire dei dialoghi. Pensare subito che lo stesso dialogo, la stessa procedura possa andar bene sia sulla voce che su WhatsApp che sull'app facilita di molto perché riduce i tempi di lavorazione da parte del business. La seconda cosa è costruiamo un'architettura IT flessibile. È vero che molto spesso i partner danno tutti quanti gli elementi di cui ho parlato prima, quindi speech to text, text to speech NLP, machine learning, ma se costruiamo un'architettura flessibile abbiamo la possibilità di provare anche altri fornitori e quindi magari verificare se lo speech to text possa essere fatto da un partner in particolare che possa darti un valore aggiunto. Infine, tutto questo porta a una mole di dati enorme, non sottostimatelo. Abbiate un'architettura IT per la parte di analytics che sia scalabile perché ovviamente aumentando le conversazioni aumentano anche i dati che entrano in pancia ai sistemi. Il tutto lo abbiamo fatto con una metodologia di lavoro agile che permette di lavorare con data scientist, developer, UX, UI, business expert insieme in modo interfunzionale con micro rilasci giornalieri in sprint di due settimane. Questo ci permette di capire se abbiamo fatto bene e laddove non abbiamo fatto bene di andare a migliorare. Ultimo, ho messo una slide su una lezione imparata simpatica perché Andrea mi ha detto racconto una cosa particolare che è accaduta in questi tre anni. Vi racconto il caso di Whatsapp. Abbiamo aperto Whatsapp a dicembre dell'anno scorso e i dialoghi erano già unicanale quindi abbiamo detto apriamo ma siamo abbastanza tranquilli che tutto vada bene. Ecco in realtà abbiamo scoperto che i clienti su Whatsapp parlano in modo totalmente diverso perché mentre sul sito, sull'app sono estremamente formali anche nelle parole che utilizzano, su Whatsapp iniziano ad acquisire un linguaggio veramente amichevole. Quindi a parte le emoticon che vengono utilizzate di tutti i tipi e gli aggiornamenti che l'emoticon di Whatsapp fa e quindi bisogna starci dietro hanno iniziato anche a rispondere cose come yes, yep o why you, we. Tutto questo non era stato trainato e una delle metriche che noi utilizziamo giornalmente per andare a capire se Tobi comprende è quante volte non comprende e ci siamo resi conto che ci sono delle peculiarità per canale. Nel caso di Whatsapp il training dell'emoticon è fondamentale quindi insegnare al motore che cuore è come dire ti voglio bene e quindi possiamo dare delle risposte come questa piuttosto che insegnare che we we you vogliano dire ciao aiuta nell'esperienza di tutti i giorni e con questo chiudo super in ritardo e vi ringrazio. Grazie. Grazie a tutti.